Oh cavolo! Ma allora non c'è Baugiano? E io tutto il giorno, Baugiano non c'è. Baugiano, facciamo una cosa, facciamo una... Mi passate il telefono un attimo, mi chiamano dalla regia via telefono. Pronto? Ah c'è Baugiano? Allora facciamo una cosa, io mi collego, ma c'è Baugiano qui? Dov'è che non è? Ha addirittura il collegamento in diretta dal bar di Baugiano, addirittura! Allora facciamo una cosa, linea, no questa, cioè il collegamento in diretta, collegamento linea... Stia zitto, stia zitto, collegamento al vostro barista di Baugiano, a lei Baugiano, dal suo bar. Buonasera, siamo a Baugiano, il mio padre, il mio padre di Baugiano, quei ragazzi sono andati a fare i canzini a vincere, a fare i canzini a vincere. Io c'ho da fare, c'ho da lavorare, non posso mai andare a vincere, a lasciare i barri, c'ho da gente, c'ho niente, con che coraggio, con che coraggio vengo a vincere a vincere, a fare i biscotti, i biscotti, c'ho da lavorare, c'ho da fare, c'ho da gente, c'ho da preparare i spritzi per stasera, la pericena, la pericena. Vengo da gente, i BH, vengo da gente, c'ho da mettre, c'ho da e ma hay unchild, c'ho da collaborations.. c'ho da 이거는, trama, shoppernehmen le piedi, dai suddici, di undorare, c'ho da una blessed... Una malvistad! Ma tu lo dici te? Tu lo dici te? Se non lo sai tu lo puoi? Con che coraggio? ma la gente non sta male, ma gli spagnoli vanno a giro, vanno a giro, vanno a giro autori o gli inglesi, o gli inglesi, e sono rimasta dietro l'inghilterra la polizia va a girare pure a cavallo vanno a giro ma che, ma ragazzi, ma, 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 ma tu lo dici te, tu lo dici te non te lo puoi vedere, non te lo sai, non te lo puoi dire, te lo puoi dire una lucciolina, un aperitivo, uno sprizzettino io, questa cosa, signor Baugiano, lei è inutile che con la scusa dell'apericena, dell'aperitivo lei deve stare qui con noi, non può, o uno tiene il bar, o uno sta qui con noi, capisce Baugiano? ecco, poi quel bar, io non c'ero mai stato, ma la foto della vecchia dietro cioè, un pochino più, eh, frizzantino, più moderno ha visto Baugiano, che fate voi qui?